Venezia. Non ha ancora un nome il cadavere trovato martedì poco lontano dalla stazione di Santa Lucia in Canal Grande. In attesa dell'autopsia continuano gli accertamenti dei carabinieri del nucleo natanti, perché nessuno finora ha denunciato la scomparsa di un uomo sulla cinquantina. Appare comunque poco probabile che si tratti di un residente. L'ipotesi più accreditata al momento è che si è morto per un malore. Potrebbe essersi avvicinato al Canal Grande per vomitare, togliendosi una porzione di dentiera. Poi l'improvvisa perdita di equilibrio e la caduta in acqua. Sarà l'autopsia a stabilire se il decesso sia sopravvenuto per annegamento o per un malore immediatamente precedente. Mestre. La donna faceva da palo e il compare rovistava nei cassetti e negli armadietti, proprio mentre nell'asilo di Via Leardi i bambini facevano attività. Ma la responsabile della struttura si è accorta e ha avvertito la polizia. Alla vista degli agenti la donna è fuggita per il giardino, mentre l'uomo, un 25enne originario di Salerno, residente a Spinea, è stato bloccato e identificato all'interno dell'asilo, mentre cercava di scappare con due borse di refurtiva. È stato denunciato per furto aggravato in concorso e ricettazione. Il bottino è stato posto sotto sequestro. Fossa alta. Un tentativo di furto in casa in pieno giorno, sventato anche grazie a un vicino di casa che ha chiamato i carabinieri, segnalando la presenza sospetta di due persone. L'uomo sapeva che l'alloggio era vuoto da alcuni giorni perché il proprietario era ricoverato in ospedale, informazione che probabilmente conoscevano anche i ladri. Sul posto si sono precipitate dunque due pattuglie dei carabinieri. Uno dei ladri è fuggito, l'altro, 28enne, era ancora in casa che frugava. È stato arrestato per furto aggravato in concorso e per l'illecito possesso dello spray al peperoncino.